ehi ragazzi ciao amici miei come state amici come state amici come state amici miei come state amici miei come state amici miei grazie 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 marco drums gamba grazie 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 eccoci qua amici e amiche miei come state come state come state amici come state amici e amiche di marco drought games channel allora nel frattempo che si aspetta il mitico morris ci facciamo una partitella ciao fabrizio ah 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 mitico allora ti dico la figaggine della serata stasera ci alleniamo io morris e l'amico michele dovrebbe entrare tra poco alle nove e mezza perché stanno facendo l'aggiornamento e c'è una serata a terzetti tutta sera in allenamento ok figata 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 tu cosa ne pensi è una figata vero no vero no fabrizio che figata ciao fabrizio sì 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 allora prove di ferro scontro su caldera battle royale e bird ciao amici di twitch allora vado con terzetti lo stesso vediamo se mi mette due giocatori a caso eh grandi ragazzi come state come state ciao chris ciao lord ah 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 ok ciao lord ciao mitico allora lord e chris allora chris amico mio lord amico mio la serata come ho appena detto a fabrizio si svolgerà in questo modo marco drams va da solo nel mondo di warzone e poi alle nove e mezza dovrebbe arrivare il mitico morris e michele e ci alleneremo insieme ragazzi è una serata fantastica che marco drams finalmente imparerà a giocare a warzone ha 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 ciao come va ciao deciso mitico ti ho spiegato adesso che figata di serata c'è stasera allenamenti con morris e michele ok quindi dobbiamo aspettare loro nel frattempo ciao amici di twitch benvenuti ragazzi ragazze tutti quanti se non siete iscritti iscrivetevi immediatamente al mio canale grandissimi e andiamo a sparare allora come al solito dobbiamo siamo in balia di warzone e dei server nel senso che ci vuole un po' entrare però invita giovanni nel party allora fabrizio stasera no stasera pa solo io morris e michele perché dobbiamo allenarci infatti avevo detto al grandissimo giovanni e chris che facevamo lì allora deciso l'idro ciao ragazzi ciao fabrizio ciao chris ciao deciso grande fabrizio e praticamente che cosa succede visto che non so quanto faremo insieme al massimo se morris e il mitico michele escono prima allora solo in quel caso c'è posto per tutti e quindi dopo facciamo una cosa quattro e invito immediatamente giuseppe e immediatamente ciao ragazzi tv grandissima e immediatamente chris scusate ragazzi se faccio così ma se no è veramente un casino poi faremo un'altra sera che gioco e prendo questa responsabilità mia giuseppe chris e e e sharder o chi vuole giocare purtroppo stasera chris e dobbiamo allenarci quindi visto che tu sei il mega amico di morris e anche giovanni guardiamo come come si evolve la situazione ok comunque rimanete sempre in live perché appena appena non fa scrivere a giovanni come mai come mai appena si evolve la situazione che c'è posto ok ti invito subito non posso occupare ai 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 che morte che morte che morte non posso invitare prima perché poi dopo sarebbe un casino o almeno che giochiamo adesso però appena arriva morris bisogna uscire quindi non è tanto bella la cosa dai facciamo così mitico maurizio io ho già creato il party con morris così quando arriva entra nel party ci sentiamo e poi tirerà dentro anche il mitico michele ok il party già aperto quando quando entra e poi vogliono venire maurizio c'è già il party ok grazie grazie ok dai vediamo un attimo marco drums games come si comporta ciao amici di twitch amiche di twitch benvenuti benvenuti vediamo un attimo il grandissimo marco dreams il draghetto con gli occhiali da sole il draghetto con gli occhiali da sole è fighissimo un drago con gli occhiali da sole allora visto che un pelino l'abbiamo imparata andiamo a living vediamo un attimo allora loro come fanno a grande lord o allora già mi sta a sparà quindi già partiamo un po male fai ok ai cazzarole sai ai 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 morto malissimo spray allora io in teoria quando la sento per messaggio sta di nuovo a casa della mamma grandissimo grandissimo ah ok sei sicuro di amandone la partita è certo grande 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 giulie grande giulie grande giulie è andata abbastanza così così ma io ho fatto ciao luca a grandissimo grandissimo spray ragazzi domani sera gran turismo set stasera facciamo una warzonata in allegria no sei morto allora infatti questa è una serata allenamento è una seratina allenamento grande luca e non posso usare la golf per te per te amico mio comunque devo comprare una golf da un milione quindi se vuoi venire domani sera ciao ciao ragazzone grandissimo luca quando se vuoi venire domani sera a vedere la live c'è ci sarà una golf da un milione di euro ok non è proprio una cosa però è simile a una golf è una concept della volkswagen comunque parliamo di call of duty allora ragazzi oggi c'è stato l'aggiornamento 30 giga più o meno adesso non mi ricordo ma credo che era una roba del genere e hanno messo monarch hanno messo i mostri giattoli oi 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 caramba li ho saltati praticamente tutti ti vendo la mia ti vendo la mia ti vendo la mia bellissimo questo ahahahah ok un andate un andate gli altri sono tutti su per fortuna questa è la prelobby eh ok entra anche google a rompere ciao amici di twitch google smettila ok ma sei serio google allora io avevo schiacciato terzetti guada gioco gioco tra un po' arriva morris eh gioco gioco grandissimo e dobbiamo allenarci quindi mi sto preallenando un po' io e dopo ci alleniamo per fare le gare mi sta venendo anche la tosse allora visto che prima sono un po' morto ok mettiamola qua si hai ragione allora vediamo un attimo uno è andato no 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 autori anima nooo si 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 gli giocava serio e stasera dobbiamo fare una qualcosa ehi gioca di nuovo gira la ruota e stasera dobbiamo fare una cosa seria per quello che mi sto esaltando adesso a parte che io ho fatto Rebeard in tre però probabilmente se sono da solo non mi cerca altra gente che sonnino e quindi faremo faremo una cosa fichissima di allenamento stasera eh un allenamento col volante si si è talmente assurda la cosa che legge che non lo farò mai più in vita mia e praticamente ciao amici di Twitch e amiche di Twitch mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto stasera Warzone eh ma domani sera Gran Turismo 7 e poi venerdì Warzone e poi sabato e domenica Gran Turismo 7 bello 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 grande gioco vedi mi sto esercitando per fare i tornei beh oddio non lo so però spero spero i tornei torno sicuramente spero di tornare ai riflessi che avevo un po' di anni fa che veramente facevo paura ma adesso faccio paura al contrario una volta faccio paura perché faccio un sacco di kill adesso faccio paura perché non faccio kill quindi sempre paura faccio però è cambiata la paura è cambiata eh sempre paura faccio ma è cambiata la tipa di paura anche perché i ragazzi del giorno d'oggi ragazzi questi hanno una velocità mica paura paura di brutto tra l'altro io sento dei passi eh tutto brutto la zona di guerra vi aspetta allora il problema esistenziale è ma brutto 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 ahahah il problema esistenziale poi tra l'altro bisognerebbe anche che ritornassi a fare il moderatore amico mio eh così si fanno un po' di un po' di sondaggetti so che sei stanco ma anch'io sono stanco prova l'MP5 ok ok Chris allora io ti chiedo scusa perché non stiamo giocando insieme ma davvero mi voglio allenare col tuo amico e vogliamo fare cose veramente serie ti ripeto che poi farò una serata a giocare con te Giovanni e anche altri tuoi amici di scuola se volete Sharder e chi vuole entrare ok allora stasera purtroppo e per fortuna c'è stata questa occasione di potermi allenare e quindi ci alleniamo vero vero tanto tu sei intelligente capisci capisci tutto capisci mi a me attenzione in alto ok allora l'MP5 come lo provo però perché non ce l'ho c'ho questo ah io devo imparare a non farmi andare in pappa al cervello e a muovermi velocemente ma non c'è regolazione di attenzione di poterlo accettare un po' no no al massimo si aumentano ehm a 120 si la nostra tv ha il 120 premio no ma tu non mettete in pappa si oh my god ma perché loro sono in due e io sono da solo scusate ragazzi ma no aspetta aspetta un attimo perché loro sono sempre in due e io sono da solo ok che sono da solo però allora a questo punto facciamo il gioco gioco da solo gioco da solo operazione Monarch ragazzi eh Godzilla vs King Kong però il discorso è chi è King Kong e chi è Godzilla nel senso arriverà ad un certo punto che io farò Godzilla i giovani d'oggi tengono la possibilità in questi giorni e basta ricordare che Simone è piccolo muore esatto 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 è un incontro epico con tutte e due da patto beck in il maggio ah 11 maggio però la battaglia contro di loro due l'11 maggio secondo me vedi la battaglia beck in inizia l'11 maggio allora l'hanno precaricato e questo sarà una figata perché se andiamo in giro e poi dopo c'è anche Godzilla dobbiamo sparare Godzilla lì si che veramente ragazzi si muore facile eh si muore facilissimo spray vabbè si li vedi da lontano ma dovrai avere 170 miliardi di colpi eh per farli ammanzare allora sto facendo effettivamente l'uno contro uno e potrei anche cavarmela secondo me eh potrei anche cavarmela adesso vediamo un attimo tra l'altro è partita subito non so se avete visto e invece quando ho fatto terzetti non mi ha messo dentro nessuno eh ritorno singolo quindi se muori 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 male muori malissimo malissimo spray io dico malissimo spray per ottimo spray ragazzi perché i i cosi sono il mio coso i cosi ok avete capito no? i cosi sono i miei cosi ma questo lo ammazzo perché è qua così poi arrivo da dietro ammazzo questo poi ammazzo quello che guarda di la e poi questo mi vuole ammazzare però io lo ammazzo e poi praticamente ammazzo e quello mi ammazzo è arrivato Snoop Dog e vabbè Snoop Dog mi può ammazzare esatto tutti i cosi di cosa allora comunque una volta oh lo faccio alla Morris e si deve fare così tempi in auto ah quello si è cambiato ho mancato la testa è stato così ahahah si è ammazzato si è auto ammazzato ciao amici di Twitch amiche di Twitch grandissimi benvenuti Marco Drums Games tra un po' arriverà Morris e ci alleniamo per fare le gare mondiali eh vabbè io magari no però loro due si modalità ora è di modalità non ho capito nulla non ho capito nulla amico mio rispiega please ok dai fammi uscire gioco qui è dato resistente il nuovo cadere del timer per entrare liberamente attualmente per accelerare il controllo occidente i delici senza che lo passano loro non ho ancora capito sinceramente ah posto qui posto qui eh credevo di fregarmi non pensate ma questo qua l'avete visto faceva il pagliaccio faceva ti spagliaccio la uh non volevo fare questa cosa però ve l'ho fatta ok grande perché non ho capito niente no 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 io non vedo nessuno io non vedo nessuno ricarica ciao a me grandissimo iscriviti al canale grandissimo si 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 ho appena ricaricato la mia arma ha 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 e due e drums e drums ragazzi per me è un miracolo assolutamente si bro grande vabbè sei un grande sei un grande amico grazie allora come in alto ma io non vedo nessuno in alto ah ma no ma come ha fatto ma come ha fatto arrivare dopo ma c'è la rinascita scusate ah si eh credo no ci sarà sicuro no caspita vabbè io con niente devo comunque prendere una mano eccolo qua eccolo qua porca la miseria ma dai ma era andato nell'angolino ma nooo ha 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 due volte vabbè dai però però l'ho ammazzato due due magari l'ho ammazzato due volte lui per quello che poi è venuto a cercarmi perché non ho visto che l'ho ammazzato può essere può essere può essere può essere che allora si è incaponito ha detto io devo ammazzare Marco Drums Games Channel che si sta allenando allenamentus prime vediamo un attimo se qualcuno mi dice qualcosa nessuno dice nulla allora ragazzi ehm Warzone Call of Duty io facevo anche le serate all'altro Call of Duty che non mi ricordo mai come si chiama eh qual'è l'altro? eh Call of Duty l'ultimo non me lo ricordo ah sei stato censurato ah 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 grande lord Vanguard Vanguard grandissimo lord bravo bravo per fortuna che ci sei esatto quindi io non so se a voi favorebbe piacere amici di Twitch che qualche sera invece del Warzone porto il Vanguard o Vanguard eh non so scrivetelo nei commenti eh grande grande ah beh scrivetelo nei commenti ah ma devi curare un po' la questione di qua eh però grande grande mi raccomando iscriviti al canale iscrivetevi tutti ragazzi al canale eh grandissimi ecco ecco Chris grandissimo dai dai che stasera Chris ah bisogna fare un sacco eh eh mi dico Chris dice di si che gli piacerebbe ma Caldera non la giochi mai ok allora eh effettivamente eh giochiamo sempre quartetti qua eh questo qui Ray Bird anche col mitico Morris effettivamente non la gioco mai ma Caldera che cos'è che è? la Battle Royale mi sto incasinando anche la lingua la Battle Royale la facciamo ogni tanto si 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 intendi Caldera per Battle Royale si 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 ok basta scherzare diciamo che la il gioco si si bravo bravo ah beh si 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 la Caldera la la portiamo la portiamo ogni tanto la portiamo diciamo che non essendo proprio un cecchino incredibile la questione del cecchino è sempre stato il mio problema su tutti i Call of Duty e su tutti i giochi allora la questione non essendo un cecchino incredibile mi piace di più fare Rambo e quindi Caldera 50 verso 50 eh eh oiaiai 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 come sbagliato si no possiamo portare tutto nel senso non ci costa mica niente portare le cose e vedere le cose nuove questo non c'è ecco Marco Rambo Games ahahah grande lord io dovrei trovare un si si io spero che questo qua non è quello di prima ma ah e beh si potrebbe effettivamente però il discorso è che allora le crassi le ha fatte mio figlio quindi io non non so che armi ci sono qui no? e quando chiamo per i soldini non so mai che equipaggiamento prendere di mio se no le armi sono quelle che trovo in giro le armi che trovo in giro sono un po' quelle che trovo in giro anche perché questo gioco ci giocava tantissimo mio figlio dai vieni fuori il testolino butta fuori il testolino oh c'è qualcuno dietro eccolo la si però ho visto che c'è qualcuno che sta sparando qui tra un po' arriva il mio amico Morris e lì vedrai le cose che cominciano a oh chi è che è arrivato? i sassi sono arrivati vedo uno che sta arrivando col paracadute dice che devo cominciare a spostarmi magari io sta roba della nebbia oh 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 eccolo lì l'altro che è andato grande Marco Drums e c'è uno lì eh la totem mi ha detto che giocheremo ma sei tu il mitico Michele che gioca insieme a me dopo? grandissimo chi è la totem? chi è la totem? non ho capito chi è la totem oieieiei dov'è? io stavo sparando a quello la adesso verrà a prendermi si è incaponito sicuro ah ok oh 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 no non ho capito chi è il totem no daiiii che cattivo cattivone ma posso ritornare giù un'altra volta? oppure è già morta la partita no posso tornare giù forse posso tornare giù a questo punto allora non vado qua oi 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 ahhh ahhh che fico grande grande abe oh mi raccomando iscriviti al canale ma te l'ho già detto si forse te l'ho già detto due o tre volte vabbè ahhh nooo da dietro nooo da dietro sei cattivo ahhh forte abe grandissimo ahhh ok stavolta se io ritorno qui io ricrepo giusto? e io ritorno qua perchè mi sono incapponito che voglio ammazzare questo qua no no nooo mi sono iscritto appena a morire e mi sono messo la storia grande grande abe e io sono morto malissimus prime grande 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 grandissimo abe grazie 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 grandissimo abe se ti va qualche volta giochiamo assolutamente si quando facciamo le serate con giovanni con con chris e magari che con moris stasera non posso assolutamente perchè dobbiamo tra l'altro tra un po' arriverà anche dobbiamo allenarci però si si volentieri 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 mi fa piacere nooo allora hanno problemi non fa connettere prova a riavviare la console e magari spegni modem e riaccedi allora dovrebbe arrivare che sfortunella che sfortunella che sfortunella che sfortunella si 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 allora intanto pettiniamoci ragazzi perchè bisogna sempre essere pettinati eh sempre anche se andiamo in guerra a morire chiaramente ragazzi si sta parlando di un gioco eh questa non è meglio forse boh proviamo non va proprio internet ahahah che provi per pettinarti non li ho più allora il mitico moris non ha internet se per caso ragazzi succede che vabbè aspettiamo 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 perchè altrimenti facciamo poi i casini grazie 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 Bragali e di salute e di salute oh bella oh bella è una stessa cosa ahahah e di salute eh eh non si aggiorna l'anno cattoli no sicura? no eeeh eeeeh dove andiamo però si chiede fra poco gli riparti o se no e' un problema generico della loro zona può essere, può essere è il solito problema di di internet che non funziona credo perchè stanno arrivando stanno arrivando amici miei stanno arrivando moris e l'amico che andrò a conoscere oggi che dobbiamo allenarci insieme quindi poi smetterò di fare il cavolini di bruxell da dietro è arrivato ma dai ma stavo prendendo l'arma cattivo dai ah ah snoop dog cattivo cattivo è stato lì stava lì anche a fare il pifferatore magico ciao amici di tweet dai che arriva moris si finalmente bravissimo adesso mi sono incapponito perché devo ammazzare questo qua questo io adesso devo fargli il bellissimo che non va eccolo l'avevo visto dov'è però cioccherete i tornei loro sì io spero ma dubito io mi alleno però perché siamo grandi amici e ci alleniamo insieme coi pugni coi pugni coi pugni non avevo neanche la pistola non avevo neanche la pistola amici non avevo neanche la pistola allora a sto punto adesso ho finito questa partita ho sentito la giulia vi saluta oh grandissima giulia grandissima giulia oh eccolo eccolo maurizio dai moris vieni siamo veramente di pronto guarda mi sono improntito se può si può dire così non si può dire improntito grande grande ave sì 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 assolutamente tornei pazzeschi magari poi che ne sappiamo magari divento bravissimo eccolo eccolo qua vai 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 e mori mi hai ammazzato prima eh te scemoni moris quando verrai alla torta è una sala giochi mi sembra di aver capito prima oh 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 c'è qualche cattivone chi è no è un tuo amico mi sembra da capire moris maurizio c'è iscritto al mio canale quando ha visto che condiviso la storia ah dai ma questo qui è jean claude van damme di warzone grande gioco gioco no 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 come si fa uscire eh sì sì amici miei monarco operazione monarch monarchico monarchico monarca monarca sarebbe un amico di ruggiero che mi ha detto che cercava i matt e ha detto che ci dovevamo incontrare per giocare grande ruggiero grande ruggiero oh ah beh vai fai iscrivere anche ruggiero al canale di marco drums games eh mi raccomando eh amore no facciamo un po' di pubblicità capito ah beh fai iscrivere anche ruggiero è grandissimo ruggiero penso che la cosa più cattiva che ci sia sul pianeta è l'acqua frizzante sbollicinata dentro la bottiglia di plastica ah ovvio grande tu sei che sei un grande iscrivetevi al canale se vi passa un abbonamento per caso o per sbaglio fatemi anche un bel abbonamento che grazie 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 gli abbonamenti servono per poter crescere col canale comprare un sacco di giochi fare le magliette ragazzi le magliette costano un botto ah ah ok ma sinceramente non ci conosco ah ah ecco la faccina che ride però eh la faccina che ride grande grande maurizio oi oi mio amore sei inchiudato i cichi ma perché metti le cose di più lontano possibile io so che ci dobbiamo incontrare ah si 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 allora allora ok scusate scusate ma solo io non posso incontrare moris ma lo incontri gioco a milano a milano alla fiera di milano e incontrerete anche marco drams games e chi vuole e vi mando il cartonato eh il cartonato e quindi quando entrate vi appiccicate lo stemma di marco drams games channel sulla vostra maglietta perché fare le magliette ragazzi costa troppo quindi o mi fate gli abbonamenti o fare le magliette costa veramente troppo a parte che sarà il merchandising che vendo eh devo trovare qualche posto qualche qualche cosa tipo in in cina o roba del genere che le fa perché e farle qui è una cosa veramente incredibile si amore si si amore allora ti sto scrivendo in privatino Maurizio ma sta entrando sta entrando il mitico allora andiamo a vedere un attimo i personaggi ragazzi i personaggi perché allora Beatrice ce l'ho a livello 8 Lucas livello 1 non mi piaceva troppo troppo arrogante eh lui Roland mh si si diciamo cazzuto il punto giusto e bravo Snoop Dogg costa un botto ma sinceramente è fighissimo beh è fighissimo perché è un cantante famosissimo saluto a tutti salut salut ah sprizzettino sprizzetto sprizzettino sprizzettoso con le patatine ce la famo io avrei distrutto tutto io non le ho già le patatine le patatine qua le patatine qua non le mangiamo niente no amor devi salire vai sediti baby allora allora vediamo un attimo il mitico Morris quando riesce ad entrare poi stavamo parlando lei è quella che ha l'operatore massimo bruttissimo non fa niente ce l'ho al massimo che è a Lima Daniel mai usato Wade troppo arrogante Florence ci sta Matteo lui è Arthur è fighissimo non l'ho mai usato Costanz non l'ho mai usata Podmavati mai usata Polina mai usata Sigenori mmm forte Solange sì a 10 me la ricordo Francis no ma questi sono sicuramente personaggi che hanno giunto dopo amici miei Lewis Anna Gustavo e Thomas ok allora vediamo se il mitico Morris è arrivato non va tutto bene tutto mi sa ok magna 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 esatto lord c'è lo spritz oggi spritzetto lord c'è lo spritz patatine sono troppo buone con le patatine ok come sta messo grandissimo Maurizio il mitico Morris caldera nessuno con il risargiamento solo i più forti basta scala a caldera battle royale e rebert vabbè dai proviamo a fare questo sul caldero dai dopo entra grandissimo Morris esco buono spritz è proprio buono dedicato questo spritz un po' ascolico andiamo un attimo alla salute lord almeno poi le 11 andiamo letto per bene salute ok allora scontro a caldera 100 giocatori ah ah ho capito hai ragione hai ragione lord ma la bocca è piena di patatine quindi non sarebbe proprio piena l'ho appena l'ho appena ripatto ok quindi qua è due ce l'avevano cominciamo benissimo non bene va benissimo va benissimo va bene ma questa è la preloby bannato guardate che belle macchinine sembra la fiat 128 oh caspiterella dovrebbe partire ok allora dai 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 ti consiglio di attivare nelle grandi città ok oh cacchio ah ma qua siamo 50 contro 50 bello non l'ho mai fatta questa qui eh tanto mi stava stirando il camion non l'ho mai fatta questa qui non l'ho mai fatta questa qui ok ah dici questo è il malloppo quello con i soldi tanto si è inchiodato vabbè non l'ho mai provato mi sa c'era scritto qualcosa a caldera intanto ho preso un sacco di di fucine un sacco di roba credo a deathmatch è possibile deathmatch no no ah la mappa è sempre quella ma lascia che cosa che cosa che sarebbe sta roba in realtà non so che cosa devo lasciare però vai ma quanto viaggia quello lì dove è andato no 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 non riesco a capire che modalità è ah ah oi oi ahia ah no, sei tu, scusa sei tu oh, quante belle armi mi piace questo ah, c'è oh, amico ciao, Mauriz ciao ciao, sei riuscito ad entrare? allora grandissimo dimmi tutto dobbiamo andare nella chat gioco ok, perfetto perché c'è sì Michele, giusto? sì, sì perfetto, grandissimo Michele andiamo in chat allora, perfetto entro invitato, entro entro subito tanto qua, allora, abbandona tanto sono anche morto tra l'altro ok, esco andiamo in chat gioco ragazzi ah, è arrivato Mauriz ragazzi grande ok immediatamente in chat gioco ok un secondo solo che sto andando in chat gioco ragazzi mi senti? vabbè, non mi senti chi? non sono ancora con Mauriz partecipiamo mi senti? sì, sì oh ah ah grande Mauriz c'è eh, c'è già il tuo amico? sì, sì ciao ciao Michele, piacere Marco Drums Games eh, quando va via l'audio non si sente niente raga guarda, con una chat di gioco è incredibile ragazzi vai va ragazzi non si sente più l'audio ciao amici di Twitch benvenuti raga allora mi sentite ragazzi? perché non va più? non va più non va più va in gioco aspetta perché la chat di gioco di game è brutta roba ciao amici di Twitch benvenuti ragazzi buono spesso non deve entrare un altro ciao Mauriz ti sento adesso ciao grandissimo stavo salutando Michele ciao Michele grandissimo piacere Marco io non lo sento no dai non sento Michele ma perché? io ci ho messo tipo mezz'oretta cioè due orette e mezza ma ci ho messo mezz'oretta per aprirlo perché non mi andava mi andava la linea adesso ti sento ciao Michele piacere Marco ciao Marco ciao bello grandissimo allora scusami se faccio ogni tanto qualche figura eh qualche figura però me la ci metto tutto l'impegno non ci paga nessuno bravo 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 mi piace mi piace il tuo modo di ragionare ci sta ci sta dai alleniamoci però allenatemi possiamo andare a Stronghold dai metti sempre puntatori Morris per piacere sai che io faccio un po' fatica non possiamo andare a Stronghold mi sa che la parte buona ora è nuova Stronghold non è per lo shop se andrà a nuova neanche a living quindi è meglio no ok e Morris mettimi sempre il puntatore sai che io non trovo i posti sì sì grande è quello giallo il fondatore ok allora ecco la casettina sì sì la nuova la nuova va bene va bene dai ci sta andiamo proprio sotto sotto invece io vado a prendere il chilo allora non c'è il chilo ti vedo forse hanno calciato questa stagione nuova è vero ma certe volte non c'è certe volte c'è ehi vedi la starma nuova ragazzi io sto arrivando ah sì sì ce l'ho ce l'ho l'ho provata prima su Vanguard che l'ho provata da una terra fortissima è questo è bello anche Vanguard eh ragazzi ci si potrebbe fare qualche partitella anche lì beh hai detto Marco sta andando malissimo la linea ho detto che sarebbe figo anche fare qualche partitella Vanguard ho sentito l'amico Michele che diceva Vanguard Vanguard ci faccio con la classificata io lo devo comprare Vanguard dai dai mori scontro io diciamo papà non è il fatto di comprare o non comprare ma certo è il fatto di di altre cose ma non per i soldi vabbè certo andiamo dalla TAI andiamo lì ok dai allora istruitemi ragazzi che io stasera devo imparare devo imparare a gratis grazie grazie oh oh arrivano ciao ragazzi siamo con Marco Michele e e Morris anche bravo bravo e Morris e Morris grande stanno giù ma come fate per la saltata oltre a dietro sulla torta è potentissima forma ciao no no aspetta che se gli animo c'è la tessera c'è la tessera no 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 stavo stavo andando ma non ce la facciamo non ce la facciamo c'è la tessera eh non lo so dove si fanno sti bunker io non ce l'ho provato io lo so facciamo a casa Marco sei qui si aspetta tu vai troppo veloce Morris dove sei sei già andato via ok ci sono io sono vecchietto ragazzo devi fare un po' più con calma allora guarda dove è ma dai ma sei dall'altra parte della mappa Morris non è possibile gioco gioco grande gioco gioco vai corretta ho l'RPG ciao giubituzzo grandissimo giubi ahah ho c'ho 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 corretta corretta venito ok l'ho ammazzato io aspetta basta un dramma ciao giubituzzo vai ok ecco qua guardate i miei soldi vuoi soldi oh sopra quanto lo sento cerca di mettere la cama al centro però sempre adesso si vedono le chili ah si dopo la sposto aspetta dove sei ah sei da in fondo arrivo eh dopo dopo la metto dopo la metto vado a metterla vado a cambiarla aspetta non vado adesso perché magari poi muoio per spostare la cama ok comunque un po' di pubblicità ragazzi grandissimo Michele se vuoi iscriverti al mio canale mi farebbe tanto piacere Marco Drums Games Channel grandissimo tu streami Michele? no io no ah grande ok ho io 17 mila euro io ne ho a casa grande venite non si riesce a giocare non si riesce a giocare non si riesce a giocare caspita zuvi dai allora stai qui con me è grandissimo ah 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 è giocato è giocato è giocato non si riesce a portare il bonca ciò oh no uno lo ammazzo poteva sapere il coso forse non dovevo ammazzarlo non dovevo ammazzarlo ma te il codice attendo il bonca si spero che lo fai a casa no cioè una volta che ammazzo uno Boris ho sbagliato che l'ho tirato non so neanche se l'ho ammazzato io scusa non l'avevo più capito che era una volta non è scendente adesso queste tante ce n'era una sola grande subituzzo eh oh oh arrivano arrivano e in questa casetta è gialla si si nella gialla proprio nella gialla l'hai visto anche tu arrivare? ciao grandissima a terra qua ciao ciao amici di twitch scrivi l'amore lo sta restando in con la casa no no siamo due mi sa grande gioco gioco corri dams la per i campani oh 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 qualcuno spara oh da me terra terra ecco la qua 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 che tensione amici miei bravissimi l'altro c'è stata qua una io gli frego la torre così io siamo all'uomo dietro no ahia raga no ma come ho fatto a crackarmi vai via vai via 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 aiuto ragazzi scappa scappa aspetta chiudiamo la porta via 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 dai 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 bravissimo grazie io farò così ragazzi e io sarò attivo solo per farvi restare a voi in questo punto quando non c'è la ma da nazione la macchina mi fa l'epoca armica c'è è vero è vero mi viene l'ansia è incredibile o chi è chi è c'è tu moris caspita ma non eri qui mi hai fatto paura però a me non l'ha vissata mi sa che sono parli di prima è sicuro una continuazione ragazzi riesco con te grande zuvituzzo grazie mille che sei passato e ci vediamo grandissimo grazie grazie amico ciao ciao buona live anche a te dice il mitico zuvi che praticamente c'è problemi team ragazzi in tutta c'è uno la eh se volete no la grappa la grappa la grappa la grappa è tre entro due l'hanno tirata no dentro ti distruggi attacca il grappa ciao mitico da quando ciao grandissimo è qua dentro oh no ha craccato l'altro è craccato quello è dietro l'angolo sono due dentro ma rifine è dentro e l'altro è craccato l'altro è craccato è qui nell'angolo davanti a te fino a destra eccolo ti è passato dietro l'altro è passato dietro ma è che è andato è che è andato è che è andato che è andato scusa miei amici se faccio così ma è una partitona per me questa qua l'altro l'altro ma io ho messo il servo no no questa è qui l'altro è andato amparato proprio a contro ammattata uh mi picco ammattato bello bello è proprio quello fermato contro che mi sta dando parecchio fastidio ambra carlino attenzione mi dovete aiutare mi dovete coprire aspetta che ho visto uno qui eh beccato qua sotto dentro la tenda attenzione che ce n'è uno grande grande attenzione che ce n'è uno sopra dove c'è le paraboliche ok grande scusate perché urlo aiuto mordi 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 nooo cosa ha buttato quante chi l'avete aspetta dai lasciatevi lasciatevi marire dai però dai ce n'erano un 50 tu accendo me lo voglio mettere in basso in mezzo mi fa proprio fastidio nooo perchè non mi fa spawnare attenzione mancano solo nove per quello che mi fa spawnare sono chiusi ci sono camperati giù ci puoi curare ci puoi curare dove però nuova domera dai quarti ragazzi bellissima bellissima come prima partita ci sta di brutto ci sta di brutto ci sta di brutto prima partita prima partita ci sta ci sta di brutto ma questo è Ray Bird terzetti vero? grandi grandi ragazzi l'audio è incredibile è solo la prima ci sta vero vero gioco gioco grandissimo grande allora ogni volta che carica il pezzettino poi non li sentiamo più finchè si torna della lobby poi riusciamo a sentirle ancora perchè purtroppo l'audio di gioco è così Morris la battaglia inizia l'11 maggio bella comunque vola seriamente si 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 Morris è bravissimo ma anche l'amico Michele mi sentite ragazzi ciao amici Twitch benvenuti benvenute benvenuti benvenute con che macchina? ciao Mike ci hai ci ha cacciati chi ti ha cacciato Mike? nooo ah sei tu ci ha cacciati vabbè rinvita? no non dirmi che c'ha problemi ma riesce ma riesce grandissimo rientra da Morris perfetto grandissimo allora rientro da Morris quindi allora facciamo così da Morris mi da inaccessibile come mai come mai il mitico Morris me lo da inaccessibile aspetta vediamo se riesce ad entrare da me Morris grande Maurizio fa la faccina che ride Morris accessibile Morris ok partecipa arrivo 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 ragazzi arrivo 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 ok oh perfetto grandi appunto ti ha invitato si lo ti ha invitato io ma perché eri inaccessibile grandissimo Morris non so perché grande young sei tu allora arc giusto o no mike michele dobbiamo aspettare che arriva che carica la partita è proprio incredibile amici miei di twitch il no ma dai guarda madonna mi hai fatto venire fame amico mio ma non puoi darmi queste prelibatezze adesso ma per cortesia ma hai visto che pizza ho mangiato io oggi dai no anzi mandamela perché sono buonissime ci siete moris michele ciao lord oh eccoti qua madonna l'audiogioco è terribile l'audio di gioco è proprio brutto 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 ma brutto ma solo tanto la partita finisce no si sente mai che si sente dentro mi ha ammazzato mentre stavo scendendo incredibile ciao lord buonanotte amico mio buonanotte buonanotte ma voi sapete che cos'è questo monarch nel senso ci sarà poi dopo Godzilla e e l'altro scimmione no ma bisogna ammazzarlo guarda che bisco ho fatto guarda che bisco ho fatto grande moris dai prima quarta la prima la seconda dobbiamo arrivare i primi ok ci tengo dimmi ma qualcuno parlato forse siiii guarda il cerchino questo due e degli sbiri vincendo la terza ok vincendo la terza ok va bene va bene dicono che possiamo vincere la terza la seconda è ancora il riscaldamento ci sta ci sta ma perché questa è la seconda questa è la seconda che facciamo si 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 è la seconda è la seconda buonanotte buonanotte la braccia forte a te a Giulia ok andiamo dove andiamo la barca andiamo a Edward la barca la barca voi non andate mai quando fate le prove per i tornei la barca troppa roba la barca c'è un soldato nemico ragazzi è già qua eh la terra la prenderà la milano giovane mi sembra che c'è i cittadini davvero ma ancora si sono sti cittadini non c'è mica un sistema in posta oh 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 basta che troviamo i soldi io ho mila e due se vuoi aspetta di arrivo si è in un'altra casa arrivo sto arrivando arrivo sto salendo l'occhio che mi sa che è qua giù oh oh aiuto ecco esatto ecco esatto sto a perdire la data occhio che sono sotto di noi Morris guardo io piastra di piastra ti manco piastra di che ti copriamo hai ragione e volo ce l'ho mi sa la cassa di piastra ah carabba si grazie 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 ma come vi conoscete il grandissimo Morris e io ci conosciamo da un bel po' che è entrato io non lo voglio voglio andermi là andermi là bravo 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 ciao giù dai che sto giocando in allenamento col mitico Morris e Michele devo fare piano perché di solito faccio un casino diamonds no no ecco o oh ok bravissimo sai poi grande aiia stiamo cuorando stessa no 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 oi che succomi La nuova factory è al living. Dove vogliamo andare? Buon anno. Siamo solo un pochino qui. Proviamo al living che già si stanno fightando. Ci ne mancano. Grazie GiuGiu. Grazie, grazie, grazie tantissimo. Grandissima. Ok, io seguo loro due che vanno velocissimi. Oh, sono rimasto qua da solo. L'ho passato, l'ho passato. Scusate ragazzi. Bravissimo. Ti saluto la GiuGiu. Grazie, grazie Morris. Abbiamo, guarda lì. No, ma sta terra qui. Ok, salutala, amore. Salutala. E che ti sente lei, eh? No, 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 no. No, è morta la partita. No, è morta la partita. Non ho capito cosa succede? Non ho capito che succede. Allora, ragazzi, dovete capire che quando finisce la partita, siamo in chat di gioco, non sentiamo più Morris e Michele, eh? È una cosa che non va bene, ma purtroppo è così. Ma credo, ragazzi tv, ah, ciao! Credo che sei inchiodato, aspetta un attimo. Sei inchiodato? Perché fa così questo gioco, amici miei? Perché fa così sto gioco? Puoi scrivere? A chi? Guarda, guarda, che sei inchiodato? È tutto fermo. A lui, a lui, a lui, benvenuto, prima di tutto, scrivili e poi schidi se sei inchiodato, perché vedo che non va avanti. Sì. No, dai, ragazzi, sei inchiodato, secondo me. Ho detto, scrivi lo stesso. Non lo so. Allora, amici, intanto che la partita si è scassata. Ok, Morris. Andiamo a far fare, ok. Ok, 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 ok. Dovevi scrivere poi? Vediamo che stavano mandando i messaggi. Morris? Di nuovo. Oh, si era inchiodato tutto da me, ragazzi. È un disastro sta succedendo stasera. Mi sentite? Ecco, sì. Morris? Micky? Morris? Ah, ok, perfetto. Il mitico Michele c'è? Micky, ci sei? Che cattiva sta maschera. Allora, ragazzi, dovete capire, amici di Twitch, che purtroppo quando carica la partita e quando fa queste cose non ci sentiamo con l'audio. Tipo adesso toglie completamente l'audio. No, in realtà dovrebbe sentirci. Ci sentite? Mi sentite? Forse sì. Forse no. A volte sì, a volte no. Ribird, terzetti. Ok. Fuori si sei? Si. Oh, perfetto. Grande, Micky. Di solito usiamo il party, l'audio del party e non c'è tutti questi problemi. Prima e alla terza si vincevano. Sì. Ma non ho capito che cosa è successo. Perché si è inchiodata la partita o ci hanno ammazzato tutti? Ah, quello lì in alto, ha fatto un casino. Ha fatto un casino quello lì in alto. Ma si può entrare qua nella ciminiera? Dessere che si può entrare. Vediamo. Ah, si può entrare. Non si può entrare. Faccio vedere proprio il asseguratore a persona. Madonna, davvero. È un'attività su 45. Ma è sempre così o dici che è stasera magari? No, perché ad apri non funziona lì in server. Eh, c'era anche un amico che è entrato dentro, Zuvituzza TV, che praticamente mi diceva che telecom non funziona niente proprio. Si vede che c'hanno i segni. Ma per esempio se tu vai a giocare a Caldera, c'è giochi a 300, 200 di pinghe, c'è uno schifo proprio. Dai, 300 di pinghe vuol dire che spari e dopo due minuti arriva. Cioè, che schifo. Esatto. Ma voi quando fate i tornei li fate online o li fate con la LAN? No, su Warzone si fanno quasi online. Quindi dipende anche dalla connessione. Ritorno, rinascita, ritorno. Dai, allora, questa è la terza ragazzi. La terza ci ha detto i nostri amici che dobbiamo per forza vincere. Quindi io vi metto in un angolino, voi fate tutto e io vi faccio rinascere, va bene? Dove andiamo? È buono. No, dai, giochiamo, giochiamo. Andiamo a Stronghold. Stronghold? Dov'è che? È il Pontino Blu. Il Pontino Blu. Guarda da sopra. Sicuro che vogliamo ancora andare qui? Va bene. Ci siamo. Una terra? Grande. Grande, Morris. Uccidete tutti. Ti ha detto. Godole ha terrato di nuovo. Sei tu. Sempre su una torre. Non sopra. Sulla torre, Morris? Aiuto? Arriva, arriva, stai arrivando. Ti cerco a cechinare, eh? Devo buttarla, mi dispiace. Anche, tira, tira. Alzata, farà. Ma qua c'è stato che si prenda specialista. Ah, c'è la tessera. Eh sì, ci vuole la tessera. Oh, ho spagato il lupo. Sono io, eh? Sono sopra? Ahia. Saliamo? Volete che salgo io? Eh. Eh, tutto. Da questo detto è qua. Ah, che se non capisco. Va? Ah, sono sopra, sono sopra, raga. Oh, no. Fate molta attenzione sopra, eh? Sulla torre, Morris. Buttati subito e fate una torre. Attento tumore, se non so, il suo attore che è lì. Poi, che cecchino, sì, sì, sì. Eh, questi qua non le caccia più da qui è un problema. Eh, mi serviva, ehm. Mi serviva passo per il pato, ma. Piancheri, tom, no. Eh, sì. Noi. No, 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 no. Ad esempio, muoviamo per niente, sì, 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 è ragione, è ragione, scusate. magari c'erano l'autocura io non avevo neanche corazzo io avevo il cazzone delle corazze oh dai un altro guanito un altro dietro ora adagliati che palla quello l'ho segato si può stare se si può evitare è meglio post io provo a facermi la torre allora ragazzi io arrivando in vincita eh ci sono veri che ce ne sanno due moris che ci si distruggono oh c'è uno c'è uno c'è uno c'è uno c'è uno c'è uno bravissimo non si è buttata no ma non si è buttata grande gioco aspetta aspetta che prova a buttarmi aspetta 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 non lo senti tu hai dettagliaporti non lo senti dei due sono raggi aspetta che prova cosa non lo sento no 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 marco devi provarci devo andare là alla tua min la vittima mi devo andare là all'acqua nel momento no 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 uno sta arrivando no 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 attenzione questa era terribile terribile proprio a stronghold vanno tutti lì si vanno tutti lì ragazzi tutti a stronghold alla torre come potevano mettere i nomi italiani stronghold e si ragazzi allora diciamo che la parte da cecco non dirmi che si è inchiodato vi si è inchiodato anche voi raga grazie però fermo qua nella schermata ma sta cercando che barba è più il tempo di cercare le partite che quello che si gioca forse forse è la partita si 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 beh dai è stata veloce stavolta eh visto che non l'abbiamo mai fatta raga andiamo alla nave potete che è una cattiva idea quella la barca la nave gigante che c'è aspetta come si chiama questa aspetta te la pingo ah si 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 io ando sempre lì anche se da pad siamo un po messi male perchè non già mi rassisti tolì ahhh porca possiamo andare moris ci sei che non ti ho sentito ancora parlare moris non c'è moris beh per esserci in game c'è sta arrivando un nemico sta arrivando un nemico sta arrivando un nemico allora barchetta 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 dai dai ok posso capire pure le armi andare a pushare la turbita contro che c'è pieno sicuro va bene ma io ho preso oh c'è qualcuno c'è qualcuno raga porca non c'era mai nessuno qui assoluto ma ma detto qua è la barchetta ma chi è che ha pingato questa barchetta ma guarda che io ci ho pingato che cosa aspetta vediamo chi ha pingato ma nooo ah no c'è qualcuno che ha pingato questa barca dove si è mandata ahhh questa dicevo io con la blu vabbè fa niente però dai dai la stessa vabbè vengo io da voi dai ahhh c'è anche una barchetta di qua vabbè 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 c'è anche di qua siamo in lancio marrissiani perzi poi andiamo subito a controllo caspita ma non c'è neanche un'arma vada che c'è vada che c'è ma secondo te ci sono ancora i cheat anche se hanno fatto tutto il sistema anti cheat ok ma questo è andiamo 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 ok ma no 20 minuti per prenderono azze ok come date veloci ma avete l'adrenalina come è stato alla scala non è stato alla scala ma si è buttata di dietro si è buttata da leggende cazzo c'è un'altra team mi sa ci sono altri qui si sta arrivando qui uno è sceso qui adesso ci fa il nuovo giovane aiaiai ecco uno è andato ah sei tu scusa l'ho visto l'ho visto scusa morris l'ho appoggiato dietro al murezzo si sono avane guarda 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 come sta giocando questo guarda andiamo avanti a me siamo temporanea ma resta per il vero gioco però no acquittato per non farmi vedere dove sono i compagni che sto davvero presenti c'è scusate ragazzi l'ho mandato io con l'attacco lì ma rispondere sciaffrano a b buono ma tu lo senti anche se io senti altra gente no no cosa per la campanella pasta sulla scala ma stasera quanti camperone ragazzi incredibile dietro di metri la scala è craccata ok che ti aspetta marzo sulla scala ancora freddo c'è qui o lì sul piaario io non senti Moris Tony ai 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 atti nel pios Alta che la camperà che camperà sulla scala mantiene messa a terra adesso a marco marris marco 3 c'è uno con la lancianarzi io marris non lo sento ecco ha traccato va 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 è che è traccatissimo e nell'angolo dietro la porta nell'angolo a destra dietro la porta proprio bravissi ma tutti camperati proprio ci sono problemi di audio ragazzi c'è uno sul tetto tetto siamo tetto tetto letto tetto aia è arrivato uno è dietro di te marco è dietro di te vediamo bravo ma è marris ammazzato marris io sono tutte le porte grande marris eccolo qui stanno arrivando a pusharvi io devi prendere giusto le mie aremi grazie grazie mille attento grazie 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 vegenica e proprio sulle scale qua della qui e qui ragà no ancora dice uno porca miseria sono morto attenzione e proprio lì alla porta capato ciao mici sopra un altro io trovo a scala ma mamma mia mi ha aspirato e dietro i mari prima bravissima cosa dobbiamo fare dobbiamo cambiare neanche io neanche io neanche io mici adesso si ma no sei mutato e' rimutato moris comunque gioco gioco ma hai detto non ho risposto sta salendo la scala moris scale ma tranquillo ecco è proprio da sotto sotto proprio là giù è sperato sta salendo piano piano proprio a due all'ora sta salendo e ci sono i compagni che sono pure fuori ancora non è e poi si è giocato in scala ecco questo gioco ammazzata mamma tento muore per i compagni i suoi e arrivano dalle tende che uno l'ho fatto vendita almi giocava proprio a due all'ora questo a due all'ora un bravigio e ancora lì moris alla porta delle scale porta delle scale ma è possibile si l'ho fatto adesso una è qua fuori eh una è fuori ancora ma se tu moris scusa mi perdono è saltato adesso è saltato adesso l'ho ammazzata lo sai dov'era? oh no giù sotto 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 ok uno l'ho ammazzato grande era dietro alla porta gli sei passato a fianco gli sei passato Marco come vedi questo e usalo? fammi vedere dove sei? dove sei? dove sei? non ti vedo neanche dove sei dove dove dove? marris dove sei? hello ping out dove? prendete ve lo vedete dove sono le persone tanti sono finiti compra e andiamo ho 10.400 solo perché ho ucciso 27 persone 27 persone ho ucciso e moris? grande no no 27 persone per fida non ci sei 9 anche quindi passiamo andare tranquilli non c'è non ci sono più ah uno sulla torre di headquarters forse però c'era un arco giù non l'ho preso altrimenti sarei divertita ma io non l'ho preso perché di solito faccio brutte cose quando prendo quelle armi lì prendiamo? è dentro prison è dentro prison dai andiamo andiamo non ci sono più eh non lo dire eh non lo dire non lo dire eh 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 diciamoci così qui una attenzione oh eh c'è uno eh si è sulla terra è traccatissimo è traccatissimo Vabbè, restati, restati. No, proprio. Eh, ci vuole quell'arco. Vabbè, tanto si deve buttare fra 50 secondi, eh. Beh, va. Aspettiamo, non vediamo troppo che ci fa spiegare piastre e corazze questo. Si deve buttare. Bonito. Le piastre ce le faccio spiegare io, ma. È buttato, è buttato. Si è buttato. Bravissimo. E si è buttato. È dietro. Non ci sono. Oh, so. Catturina, distanza, spezza. Non ho questa catturina. Per raro. Non è che non lo riesco a finire. Che colore c'è? Compagno non me li pinga. Ah, no, no, va, no, l'ha pingato il compagno. Però... Eh, non me lo io. Ma come va a pingarti il compagno? Sono io, so che lo fai la mamma quando lo finisci. Quando lo finisci ti pinga un compagno fai sulla mamma. Ah. Non lo sanno tevi? No. No. Facci caso quando lo finisci uno ti dice la stagione. C'è tipo il volo lato. Uh, che bel luco. Guarda. Ah, è il mirino, è il mirino. No, no. Mi pinga un nemico lì. Quello che hai ucciso prima, no? Visto che la pinga te l'hai ucciso. Me lo pinga ancora. Me lo sta ancora pingata. Ma si è buttato un'altra verso di noi? Ha buttato qui? Ah, è lì. Ma è lì. Ma è qui, diritto. Ma è un'altra. L'ho ucciso. L'ho ucciso, è caduto. Ti volevo autoressare. Sì. Oh? Atterra un altro? Provo per l'ultimo. Allora, siamo tre contro la tra. Atterra? No, no, che tre contro la tra. Possiamo pusciarli, possiamo pusciarli. No, no, no. Guarda. Terra un altro? Brava, brava. Sì. Mi sono fatto le ultime cinque persone solo il cecchino. Grande, Boris. Vai avanti così. Falle tutte così le partite. Grandi, raga. Avete visto, ragazzi, amici di Twitch? Abbiamo vinto. È così che si fa. Grande, Boris. È stato un livello. Ti arrabbi. Ti arrabbi tantissimo. Sono un livello. Ti arrabbi tantissimo. Grandi, raga. Così si fa. Morris. È lui. Michele. È lui. È Marco Drums. Grande, Giu-Giu. Sì, sì, Morris ha fatto paura. Ma anche Michele non scherzo, eh. Marco Drums segue. Dai, dai, dai. Comunque, grandi, 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 grandi. Bella, lì. Mi piace sto primo. Ma ci faccio uno. Dai, dai, facciamo l'ultimo. Poi andiamo tutti a letto perché, ragazzi, domani si dorme. Vai tra, vai tra, va bene, va bene. Facciamo l'ultimo. Ma possiamo chiudere adesso che abbiamo vinto? No, 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 dai. Facciamolo un'altra. Facciamolo un'altra. Così si fanno gli allenamenti, raga. Così si fanno gli allenamentos. Chardon non è venuto. Dai, dai, ragazzi. Facciamolo un'altra uguale, eh. Un'altra vittoria. Dai, 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 Morris, ci sto. Dai, Michi, ci sto. Un'altra bella vittoria, eh. Vai, vai, vai. Vai tra. Guarda se ti devo seguire. Aspetta che ti seguo su, su. Allora. Mike, sei tu, vero? Aggiungi amico. Che cosa? Mike, trattino basso CS, sei tu su Twitch? Aspetta che non si sente l'audio. Mi senti? Eh? Grazie, grazie. No, eh, Mike, trattino basso CS, sei tu su Twitch? No, 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 non ti sento, ma. Eh. Non ti sento a mano. Cascito. Adesso mi senti? Adesso si. Ah. No, dico Mike, trattino basso CS, su Twitch, sei tu? Sì, se no io. Ah, ok, ok. Sì, se no io. Sì. Sì, ti aggiungo. Bella lì. No, perché prima mi hai risposto, ho detto, no, è lui, è lui, il grandissimo. Caspita, l'audio di gioco fa schifo, però, eh. È lui, è lui, Morris. Grande, Maurizio. Hai visto che partita, Maurizio? Questa devi trasmetterla in, sul maxi schermi, è la partita di prima. Non perché Morris non le vince, ma perché Marco Dranz le dà vita, quindi, per Marco Dranz, eh. Che poi non è vero, qualcuno la vince. Sì, le ultime 5 persone me le sono fatte in giochino. Sì, no, l'ultima è, sei stato bravissimo. Infatti c'è Juju, GiocoGioco e anche tanti altri che ti hanno fatto i complimenti, Morris, eh. Sì, ho visto la fine. Grande, Maurizio. Grande, Maurizio. Tu non puoi mandarmi le foto delle pizze, Maurizio, così, però. Alle 10 di sera, Maurizio, tu mi puoi far ingrassare. Ragazzi, sono troppo buone le pizze di Maurizio. Su cazzeria, Morris, tu papà mi manda le foto delle pizze buonissime. Posso confermare, diciamo. Sì, oh, tu le hai assaggiate, che fortuna. Che fortuna. E io sono a 1200 km, è un po' dura venire giù a sabato a mangiarmi una pizzetta e tornare su. Andiamo dove? Un'altra volta andiamo a Control. Proprio. Control, control? Push, sì. Ok. E appena... Prima siamo usciti... Sì, ma ragazzi... C'è il mondo qua, eh. Prima siamo usciti da Control in una maniera incredibile. Sì, quello è vero. Adesso sul tetto ce ne sono un sacco, eh. Ve lo dico perché li ho visti. Eh no, Marco, che ce li uccidiamo tutti. Ma ci muoio il primo. Bravo, bravo. Bravo, è il modo giusto di pensare questo qua. Eh certo, ma ci muoio il primo tanto. No, no, manda a me, manda a me che faccio... Oh! Terra, campanato a letra la porta, immaginale. Oh qua, dentro? Ma ti posso... Chi ci metti, non ti vede nessuno. No. Si imboscono i ragazzi, si imboscono. Questi si stanno barricando dentro proprio, si stanno barricando a chiudere le porte. Tanto a chiudere le porte. Porca. Andata per l'agenda che ti stai affrettando, che fin'ho fatto? Appunto. Sul tetto. Ma si scelta. Vai, vai, vai. Come fai su di sul tetto? Oh, lo sai che ha detto quello che ho ucciso. Ehm, dove? Io lo avevo la pistola appena non ho capito più niente. È una qua giovane. Ehm, è una nittura. Ehm, è questa cosa. Una a terra, una a terra. Dove? Da. È morto, è morto. Ce n'è un altro dentro la casetta gialla, eh? Si invece ha bestemmiato. Attento! È di fianco a te. È dietro di noi. Bravo, Marz. Stanno sparando, non sto capendo da dove. Ero io. Da lato. Ah, ehi tu. Sì, sparavo verso quello lì. Bella questa, guarda. Eh, la mia P5, quello lì, è stata in quel modo, però non è bellissima. È bella la skin, ma non all'arma. Mi muore! Non c'è, sei su control. Ah, non sto giocando qui in valore. Erra morte. Uno è saltato di control. Puosciamoli di nuovo, puosciamoli di nuovo. Control. Andiamo. Tutto, 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 tutto. Perché ma questo qua li fa spawnare e cominciano a scendere tutti qua. Sono tutti con la pistola. Ok, con le Mp5 da 45 metri, però. Sul tetto, vero? Era sul tetto, ho visto adesso. La pingava qui. Andata a brisa, non è andata. Ed è pure morto. No, c'è pure morto. No, possiamo andare a brisa, non è vero. Oh, no, 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 me, 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 me. Guarda avanti a me, dove c'è quello spazio e con lo shop. Ah, ok, ok, ok. Ho spazzino piccone, ho preso adesso il lancio. Si stanno faiutando due team. Va? Ok, sì, sì. Ok, la presa, no? Uno sta arrivando. Lo si roma. Ok, va a prendere, si prende il lancio, sicuro. Ma noi ci roviniamo la partita. No, no, ma che cosa? Ma sono state tutte e due. Questa cita, questa cita. Ah, è sì, sì. Ma voglio vedere. No, 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 una sparata me, una sparata tata. Capito, capito, rimango in vita? Non ho sparato tutto il mio. No, ma non è stata tata, nello stesso momento è stata tata. Eh, appunto, però, andiamo là. Ah, se te la fa una scena, la mia vita, la mia vita, la mia vita. completamente, eh... Cambiamo zona. È una living. Che, c'è gente. Madonna, come correte veloce. Ma c'è c'è una tabella? Vittato, uno, dai, 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 che è l'ultima, dai. Oh, vittorna c'è stata, adesso, soltanto. Beh, vittorna c'è stata, è entrata, è entrata, è entrata, è morta. Da mappingati compagni, a strangled, stanno scendendo. Però mi sa che c'è gente a cui, c'è gente a cui dentro, ma, perciò, occhio. È entrata, c'è, è vero, da sopra, ne ho visto uno sopra. Anche l'altra casa bianca. No, la casa rossa, sinceramente. Ah, sì, sì, ho visto. Ah, me l'ho detto Marco, non è che l'avevo visto. Ah, ok, grazie. Era la cosa delle munizioni. Ciao, Chris. Non ce l'hai, vado a comprare. Non ce l'hai. Ci vediamo domani sera, Chris. No, no. Ci vediamo domani con gran turismo. Vado a comprare, aspetta. Io non ce l'ho. Vado a letto. Ciao, Chris. Ti saluta Chris Morris, tuo amico. Grazie. Ciao, Christian. Ti anima, che fai combato la cassa. Vieni, vieni. Bato la cassa, ho sentito un vetro, non eserciò. Vieni, 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 vieni. La cassa grande. Qui non vedo nessuno. Dov'è? Compagnica nostra, andando. Le rifaccio, sì, le rifaccio. Da, 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 le rifaccio. Ne faccio più di 13. Da, non vi muore. C'è qualcuno? Io a queste di quali posserei, sono finito. Marco prenditela che è fortissima Aspetta arrivo Mi tradietta? Arrivo Eccomi Grazie Oh qualcuno mi ha sparato Che mi ha sparato? Ma quello è Tutti te li sei fatti Grande Grande Vicky Guarda che c'è tra gente Io non sto vedendo nessuno C'era uno? E' quella che ho fatto io Compagno di questi E andiamo con l'elicottero No, ci siamo da Marco Ci siamo da Marco Non c'è più nessuna strong Ma venite con l'elicottero Vieni Andiamo con l'elicottero Andiamo a uccidere come Come fanno quelli lì E' cattivi Marco mi fai ridere? Sì Non riesco a salire Ok Fai Ma sono un cannone Non conviene dare giù Da sto l'elicottero? Marco scendi Marco Beh Dove adesso Dove andate? Quanti sono? Uno a zero Qua dietro Ma non venire che sono tre Aspetta Vieni a usciare adesso Guarda Da parte No 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 Bravissimo Bravo C'è un'altra Atterralli Vicino Però c'è anche un'altra Quindi la brava No No E' marco No Pergo Ma mi è stato da lontanissimo Ecco le ho vissi Un'altra one hit? Ma se sono tutti one hit Gli atterrò addosso con la type Vai 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 Però ma devono essere proprio one hit Che si E' un'altra one hit Ah va la mattissima Bravo L'ultimo 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 Ovvio Vista in con la casa Vista a vesti Me lo sono fatto di coltello Me lo sono fatto di coltello Ahahah Grande No Dai Non ti posso Questa è l'arma mia C'ha No Dove è l'arma mia Dove è l'arma mia? Dove è l'arma mia? Ah io no Questa qua Questa qua Questa qua va vinta che c'è 10 kg E mancano 13 persone Uuu Mi sa che stavolta le fai tu 13 kg Dai 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 Sì si fa le tuffe Le tuffe le tuffe Stasera Moris è criminale E' vero è vero Giugiu Grande Giugiu Stasera Moris è bravissimo Ma anche Michele Dove sono? Monica Entriamo prima di loro Entriamo prima di loro Sono già entrati Sono già entrati E' vero Giugiu Hai ragione Io chiuso la porta Che Moris Stasera sta spaccando Mi sono in forza stanno davanti a me Secondo me Sì Giugiu Tra l'altro è un tetto Moris Assolutetto Vai di coltello Di coltello farm Anche Michi molto bravo No lo volevo fati coltello L'altro è dietro di noi Non so capito se è in volo O stiamo a prison No 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 Possiamo tenere il tetto Se teniamo bene il tetto Dove c'è la torre Vedo due segnetti Due puntini blu Vuole prendere la nuova via? No blu rossa Ok ok Devono trascinare le pezze di qua Quindi se teniamo il tetto Siamo tantissimi Ule qui, ule qui, ule qui Ma c'è tutto Uno morto Tua madre si chiama Un e' morto Come ti ritrovo La torre a comparto Sparta di noi Ma che qui Proprio qui Proprio qui Cacatissimi Eh beh D'ora che sto No scendo Per mezz'oro No 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 La forse Ma non è La ternica La ternica La ternata La ternata L'ormato che vado a fare La ternica bella via un bambardo ho una giacchina io non uso granato bambardo orca vabbè scendiamo prima di lui tu vuoi dire che sta su quello lì quello sopra il cerro ok lascialo trattarà la scelta c'è un peccurato ma cazzafattola non c'è sapere se ne sono due ormai ragazzi sono due per forza ma dobbiamo scendere ma buon bohman mozzi devono raggiungerci la foto c'è due a terra foto piccoli e tra i voli ma i tuoi ti dietro foto grandi due vittorie allora grandissimo Michele bravissimo Morris è stato un grande grazie mille ragazzi della serata e se volete allenarmi ancora con voi io sono disponibile grandissimi sia Michele che il grandissimo Morris ora devo saltare eh anch'io anch'io amico mio dai ci vediamo domani grazie Michele della grandissima serata e delle vittorie ciao ciao amici ciao 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 Morris grazie mille anche a te ciao 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 bella Giu 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 avevi detto bene e c'è Marco con l'Avadoro ciao 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 Morris grazie ciao Mito ciao amico mio ciao ciao notte 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 ciao ciao notte Giu Giu notte a tutti tutti salutano Morris il mitico Michele e il mitico Marco Drums Games è stata bellissima bellissima ragazzi che serata che serata è partita un po' così quasi la seconda ci siamo andati malissimo ma la terza abbiamo spaccato davvero di brutto e la quarta abbiamo vinto le abbiamo massacrati bellissimo bellissimo allora amici io vi saluto vi aspetto domani sera domani sera e niente vi aspetto domani sera con grandissimo Gran Turismo 7 grazie per essere stati con noi comunque faremo altre mega live con Call of Duty Monarch col mitico Michele e il mitico Morris rimanete sempre sempre in contatto tutte le sere con il mitico canale Marco Drums Games perché ne vedrete sempre sempre delle belle ciao a tutti amici miei a domani Gran Turismo 7 ore 20 e 45 e 21 ciao amici buonanotte a tutti ciao amici buonanotte buonanotte a tutti seguite Marco Drums iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale amici miei ciao a tutti ciao 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 buonanotte a tutti buonanotte a tutti